non sta bene Fabrizio Corona non si sarebbe ancora rimesso completamente. A raccontarlo è Silvia Provvedi, attuale compagna, in un'intervista rilasciata di più. La donna racconta l'ultimo, spaventoso attacco di panico subito dall'ex re dei paparazzi solo qualche giorno fa? Pare che al momento della scatenarsi del malessere, i due fossero a casa, apparentemente tranquilli. Un punto in bianco, Fabrizio avrebbe cominciato a manifestare tremore e paura, la nuova vita di Corona Silvia è chiaramente preoccupata per le condizioni di salute di Fabrizio, aggravate dagli anni trascorsi in carcere e dalla lontananza ta dai suoi affetti più cari. Al momento, l'imprenditore starebbe cercando di rigare dritto, nella speranza di poter ricominciare al più presto la sua nuova vita da uomo libero, soprattutto dopo l'ultima munizione ricevuta, lui vuole mettere subito le basi per una vita nuova, invece non può. Dobbiamo almeno aspettare la prossima udienza, il 27 marzo. Il tatuaggio con il volto di Silvia la provvedi è rimasta accanto a Corona in questi anni. Non lo ha mai lasciato da solo, appoggiandolo dall'esterno del carcere insieme a mamma Gabriella che ha sempre continuato a lottare perché il figlio fosse scarcerato. Per ricompensarla almeno in parte degli sforzi prodotti fino a oggi e per dimostrare il valore assoluto del loro legame, Fabrizio ha voluto tatuarsi sulla mano il bellissimo volto della compagna. Lo aveva fatto in precedenza anche con Belen Rodriguez, tatuandosene sul braccio la silhouette. Chi è Silvia Provvedi? Silvia Provvedi, cantante del duo Le Donatella, è la compagna di Fabrizio Corona da circa due anni. Si incontra a trono all'epoca in cui Fabrizio fu scarcerato per la prima volta e affidato alla comunità di Don Mazzi. Oggi i due convivano e la giovane ha dichiarato spesso di essere certa che, prima o poi, sposerà l'uomo per il quale ha deciso di rivoluzionare la sua vita. Tra i due c'è un'importante differenza d'età, Silvia 25, Fabrizio 43. Tra i due c'è un'importante differenza d'età, Silvia 25, Fabrizio 44.